sono le 8 e 3 del 23 maggio 2023 eccoci di nuovo qui al mio terreno questo è il mio terreno un ettaro attraversato dalla variante e l'altro pezzo di terreno io provengo da este versovesti si trova qui adesso qui quando scendo sapere cosa va buttato la faccella perché portarlo in mano è pericoloso la forza volta di un sasso e di pezzi stai un sasso vabbè impanendo allora oggi il terreno è più umido sono venuto un po prima che a facciare quindi lavoro dovrebbe proseguire meglio adesso metto il laponino in tasca vediamo un po l'erba è molto alta guardate come se indubbiamente la mattina con la quarta con l'umidità è un'altra cosa e quando tagli ecco che dietro salva elettrica allora qui ho fatto il punto di ingresso perché dalle qua l'erba più fa più cresce quant'erba un peccato farlo spregare questa è una volta per gli animali in abbondanza si arrascia vabbè l'ingresso è stato fatto allora questa è quella che ho facciato ieri vedete si è essiccata ancora deve continuare ad essiccarsi qua devo fare un altro piccolo spazio per transitare questa è un'erba secca e forza ma non si dice punta adesso devo procedere a completare questi passi